La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Negli anni 50 e 60 l'American Committee on United Europe, il Comitato americano per la nascita dell'Unione Europea, viene creato in America. Questo comitato doveva servire per arrivare alla creazione di un'Europa unita, così come volevano gli americani. Ovviamente, inizialmente il progetto era in funzione antisovietica. Quindi nasce questo acque. E qual è la prima anomalia che noi notiamo da questi documenti che sono stati desecretati, che si trovano oggi nei National Archivi, negli archivi nazionali americani, che sono stati portati fuori nel 2000 da Joshua Paul, un ricercatore della Georgetown University. La prima anomalia che noi notiamo è che il presidente ed i principali membri dell'ACUE concidono con i presidenti ed i membri della CIA, quindi dell'intelligence americana. Infatti il primo presidente dell'ACUE è stato tale di nome William Donovan, capo dell'ufficio USA dei servizi strategici durante la Seconda Guerra Mondiale, i famosi Office of Strategic Service, OSS, che poi è quella organizzazione che può essere definita precursore della CIA. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.